L'importante era portare a casa il risultato, avendolo portato all'ultimo minuto, avendo portato a casa i tre punti all'ultimo minuto, magari ha un sapore ancora più bello e a noi dà sicuramente piena fiducia. Noi sapevamo che loro hanno questa attitudine a non mollare mai, a mettere sempre in gioco i loro principi. Noi, come loro, non abbiamo mollato e questo ci può servire da lezione, magari non commettere degli errori, però come ho detto prima, il vincere al novantesimo ha questo sapore che è sicuramente unico. Non guardo tanto la doppietta in sé per sé, guardo al complesso. È stata fatta sicuramente una partita a sprazzi buona, a sprazzi sicuramente non buona, data anche dal terreno di gioco, dalla stanchezza che è venuta un po' fuori visto le tante partite che stiamo facendo. La valuteremo, ragioneremo un po' su cosa migliorare e cerchiamo poi in futuro di non commettere gli stessi errori. Non voglio analizzarlo adesso perché sono stati comunque degli episodi che hanno portato ai gol, però ovviamente i dati parlano chiaro, bisogna migliorare e bisogna lavorare. La dedico alla mia piccolina che sta per nascere, a mia moglie che mi è sempre vicina.